Eccoci ancora insieme ragazzi per la seconda parte dell'apertura del Premium Trainer Box di Sole e Luna E' sempre poche shiny che vi parla Prendetevi altri tre codiciuzzi in omaggio E ci rimangono ad aprire i dieci pacchetti di Solgalio Quelli di Lunala sono stati strepitosi Ah questo l'ho aperto a casa, vabbè, me lo salvo meglio E partiamo già con una olografica Bellissimo Speriamo di trovare la fuori serie anche qui Che non mi dispiacerebbe Allora apriamo bene il pacchetto Ecco qua Dai, date meno fuori serie anche in questa Non ci dispiace per niente Cosa c'è? Cosa c'è? Sembra un ovolo anche questa Sì Andiamo Nonostante gli tagli con le forbici comunque Che non c'è niente di che E' infatti Bene Proseguiamo Un'altra olo? Sì Ancora Dai, una bella shine, una bella full Perché no? Se potrebbe fa' Non c'è un cazzo Ti amo Sì, ne ho presi due Solgalio che è il mio preferito non mi sta a portabono Dai Dai, eh Eh Uh, Lapras Jax Ho già parlato troppo in fretta Ora manca una full Non so se anche qui troverò Una shine, non lo so O un'altra Jax Che bisogna rimanere solo con l'Apras Vediamo Ecco Qua è un'altra olo Ultimo pacchetto Speriamo bene Non c'è niente Niente Quelli solgalio sono stati più sfortunati Dai, sono una Jax Invece lì abbiamo trovato sia la Jax Che La fuorisedie Vabbè, dai Era troppo pretendere due fuorisedie Perfetto ragazzi Anche i pacchetti di solgalio Sono terminati Io vi ringrazio sempre per aver guardato il video Commentate, condividete Mettete like Fate quello che cazzo volete E ci sentiamo presto Bye